Bene ragazzi, questo è sempre un esercizio di interferenza nello spazio che, a differenza dell'esercizio di prima, risolveremo perché è molto facile. Cioè, abbiamo due sorgenti, S1 ed S2, che emettono in fase onde con lunghezza d'onda di 0,6 metri, onde sonore ovviamente, e vi chiedo se nel punto P, mettendoci qua, io sento il massimo del volume, non sento niente o sento un pochino. Allora, com'è che si fa? Ma l'idea è sempre la stessa, cioè io, qui è importante capire quanti iperboli vado a creare? Sì e no, diciamo che è molto facile comunque calcolarlo, quindi possiamo farlo, cioè se uno fa la distanza tra le due sorgenti fratto sulla lunghezza d'onda, ovviamente andiamo a trovare un numero che ci dice quanti iperboli si possono creare, cioè se uno mi fa 4 diviso 0,6 abbiamo un'informazione, che vale? Va bene? E quindi cosa vuol dire? Che se noi andiamo a disegnare, come si fa da disegnare le iperboli? Allora, ci sarà questo ovviamente, che sarà quella K uguale a 0. Poi ci sarà quella K uguale a 1, quella K uguale a 2, K uguale a 1, K uguale a 2, K uguale a 3. Ecco, la domanda è, P cade su quale valore di K? Ecco, come si fa a trovare? Ovviamente, andiamo a risolvere l'unica equazione che qui ci serve. Cioè, devo fare, adesso poi vediamo questo valore assoluto, dobbiamo fare questa cosina qua. Allora ragazzi, secondo voi è più intelligente fare per togliere il valore assoluto? x2-x1, x1-x2 in questo caso? Sì, no, cioè, perché anche? È più grande x1, x2 in questo esercizio sicuramente? x1. E è più grande, no? Perché P è allineato con S2. Cioè, questa distanza è quella che chiamo x1. Questa distanza è quella che chiamo x2. Quindi, un modo per togliere il valore assoluto è sapere per certo se è più grosso x1 di x2. Il valore assoluto gli dà qualcosa di positivo, ok? Quindi, già sapere che x1 sarà sicuramente più grande di x2, perché è un'ipotenusa sempre più piccola, è sempre più grande di un cateto. Quindi, io il valore assoluto come faccio a risolverlo fregandomene? In questo caso, visto che x1 è più grande, finito. Perché tanto so che x1 è maggiore di x2. E quindi questo valore è positivo di suo e non c'è bisogno di essere valore assolutizzato. Ragazzi, quanto va l'x1? x1 è la radice quadrata di 4 alla seconda più 2 alla seconda meno x2. Ah beh, x2 non c'è neanche bisogno di fare pittagona. Vale? 2 Ok? Uguale a, attenzione, k che è la nostra incognita, per l'anda. Che vale? 0,6. Capite la matematica? Cioè, come sono fatti gli esercizi. Beh, 4 alla seconda? 16. 16 più 4? 20. Adesso, non approssimiamo subito, ragazzi. Facciamo la radice di 20. Noi dobbiamo trovare il valore di k. Beh, mi basta dividere per 0,6. Ora, se mi fate radice di 20 meno 2. E poi mi dividete per 0,6, troviamo il suo k. Allora, ragazzi, mi viene un k uguale a 4,12. Ditemi tutto quello che si può ottenere da questo risultato. È interferenza costruttiva? No, ma quasi. Perché se fosse 4, sì. Quindi siamo vicini ad un'interferenza costruttiva. Ho disegnato bene qua, quasi. Mi manca un iperbole. Perché magari, una potrebbe essere questa, ok? Nel senso che questa è k uguale a 1, 2, 3, 4. Poi passa la linea, l'iperbole a 4,12, inutile, che passa per p. E poi in realtà quanti k avevo in tutto? 6. E quindi ce ne sarà un'altra, che ovviamente la supera. k uguale a 5. Poi ci sarà k uguale a 6. E basta. Ok? Quindi p passa in una linea, iperbole, con k uguale a 4,12. Quindi la risposta è, non è interferenza costruttiva, perché non è 4. Non è interferenza distruttiva. Allora, una domanda che ve la lascio come esercizio è, di quanto devo alzare p affinché l'interferenza ritorni costruttiva? Ditemi, dal punto di vista algoritmico, cosa bisognerebbe fare. Dovrei alzare, vedete che se alzo di un pochino, cado su k uguale a 4. Ok? Quindi mi chiedo, chiamo questa nuova distanza tutta, x, tutta questa. E impongo che k valga 4, perché essendo arrivato a 4,12, è come se fossi andato un po' più in là rispetto al 4. Quindi è un esercizio. Allora, x1 è sempre più grande di x2, quindi cosa viene? x1 cosa sarebbe? Un cateto che fa 4 e un altro cateto che fa x. Quindi sarebbe, allora, x1 meno x2 uguale a k lambda. Allora, k so quanto vale? Sì, perché 4,12 lo alzo e fa 4. Lambda so quanto vale? Sì, fa 0,6. Quindi in realtà 4 per 0,6 fa 2,4. Perché 6 per 4 fa 24. x1 quanto fa? Sarebbe radice di 16 più x alla seconda meno, quanto vale x2 adesso? x uguale a 2,4. Allora, matematicamente, come si fa questo esercizio adesso? Perché un delinquente adesso eleverebbe la seconda. Io so già cosa farebbe un delinquente. Eleva la seconda, toglie la radice, scrive 16 più x alla seconda, più x alla seconda uguale a 2,4 alla seconda. Facile, facile, e vecchi 2. Come si fa? Guarda, lo chiudo perché sono compassionevole. Come si fa avanti? Io devo distruggere quella radice, ma per distruggere la radice deve essere da sola. Porto la x di là. Quindi viene 16 più x alla seconda uguale a x più 2,4. Elevo la seconda. Adesso calcolatrice in mano che mi dovete dire quanto fa 2,4 alla seconda, 5,76. Grazie. Allora, 16 più x alla seconda uguale a x alla seconda più, doppio prodotto? 4,8 x più? È difficile il suo esercizio, eh? x alla seconda, x alla seconda? Van via. Mi fate 16 meno 5,76. Il tutto diviso 4,8. Mi aspetto una x un pochino più grande di 2. 2 più 13. Se io mi metto in questo punto P e faccio 13 centimetri, mi trovo in interferenza costruttiva e lì il bicchiere si rompe. Mochett d'allare? Mochett d'allare.